Ciao bestioline, oggi nuovo video pieno di chiacchiere inutile ed insensate, perché anzi, anzi scusate ma io ho il microfonino nuovo e non lo uso, ma stiamo scherzando, aspettate che lo muto. Bene, ho montato il microfonino, allora, ho già perso il filo del discorso e siamo solo a 29 secondi, perfetto. Iniziamo subito perché sennò mi perdo via, visto che non mi sono scritta come al solito quello che volevo dire e l'ho già dimenticato. Come avrete potuto notare non sto più pubblicando i miei soliti 5 video settimanali, semplicemente perché mi sto liquefacendo. Cosa vuol dire che mi sto liquefacendo? Vuol dire che ci sono milioni di gradi, soprattutto in ufficio ho milioni di gradi, quindi io per 8-9 ore al giorno sono con questa temperatura. e la temperatura che avete appena visto è stata registrata alle 9 del mattino. Perfetto. Calcolate cosa ci può essere tra mezzogiorno e le 3 del pomeriggio. Io muoio. O semplicemente, invece di morire a casciarmi al suolo, di solito faccio delle piccole pause, prendo e vado in officina dove almeno gira un leggero vinticello. Ci sono meno di 40 gradi, quindi sto lì. Arrivo a casa e non ho assolutamente voglia di fare niente. Sappiate che comunque ho circa una trentina di video già pronti, già editati. Devo solo caricarli e non ho voglia di caricarli. Io arrivo a casa la sera e dico... E quindi mi butto in piscina. In questi giorni sto caricando i video perché... Vi ricordate questo? A meno. Non so se voi l'avete visto perché non so se ho caricato quel video. Fantastico. Questo qui è il tappellino rinfrescante per i cani che io ho preso per Oni all'Eurospin. È piccolissimo come potete vedere. Oni ci sta sopra praticamente solo con la testa. Ma ho trovato un utilizzo alternativo. Cosa ho fatto? L'ho messo in frigorifero. Me lo uso io. Io me lo piego. Oppure lo lascio aperto quando vado a dormire e me lo metto sul cuscino. Se no io sto a letto con il computer che butta un calore che neanche vi immaginate. E questo me lo appiccico addosso. Ed è la vita. Questo è proprio la gioia nel cuore mi dà. E' fantastico. Quindi visto che adesso c'è questo. Anzi scusate me lo rubo e me lo piazzo subito addosso. Ah che freschezza. Mamma mia non potete neanche capire. Che goduria. Ma è meglio che io non faccia questi versi strani mentre faccio i video. Vero? E niente comunque sia. Vedrò di caricare. Questi tantissimi video che oggi è pronti. Abbiamo perso il fuoco? Abbiamo perso il fuoco. Perfetto. Ce la possiamo fare il telefono? No. Non ce la possiamo? Forse sì? Forse sì? Ok. Comunque sia. Il Samsung J3 fa cagare. Io ve lo dico. Amore mio che me l'hai regalato. Grazie molte. Il mio telefono non stava più insieme. Ti sarò sempre grata per avermi regalato questo telefono ma che ci possiamo fare? Non stiamo a fuoco per più di due secondi consecutivi. La memoria è uno schifo quindi devo cancellare tutto quello che ho sul telefono per poter editare un video. Perché il computer, nonostante ora sia a posto e mi apre effettivamente in media player, non mi fa editare i video. Fantastico. E io posso solo aprirli con media player e basta. Non posso più fare nient'altro. Che amarezza questa esistenza. E niente, partirò con i video anche se ho caldo. Ah, questa è la gioia. I miei polsi. I belli rinfrescati. Niente, volevo dirvi che questo tappetino qua sarà la mia gioia per quest'estate. Il mio nuovo compagno di vita è il tappetino rinfrescato per i cani. Sì. E niente, questo video è inutile. Penso come tutti gli ultimi video che ho pubblicato. Ma amatemi lo stesso. E ci vediamo al prossimo video. Ciao.